L'Ordine dei Medici oggi ha lanciato un allarme che è figlio anche però di un clima in cui è sempre più difficile fare il proprio mestiere. Sì, posso dire che sicuramente in questo momento l'aggressività e la difficoltà di svolgere l'attività sanitaria è sempre maggiore. C'è sempre più aggressività anche a livello di comunità. Quando invece si chiede aiuto lei ha ribadito che è necessario essere puntuali e precisi nella richiesta d'aiuto perché è vero che le forze dell'Ordine hanno difficoltà a volte a intervenire per un casino di organico, di numeri o di urgenze ma bisogna anche essere puntuali nella richiesta. E' il punto fondamentale anche perché dalla comunicazione che parte deve sapere anche le forze dell'Ordine, chi mandare e come mandare. Quindi maggior precisione c'è nella richiesta e più celere sarà quello che è l'intervento richiesto.